Il canale è scavato ma la zona industriale ormai langue sulla USA Corno a San Giorgio di Nogaro sono terminati i lavori di dragaggio del corno che hanno portato il pescaggio del canale a 7 metri e mezzo consentendo così alle grandi navi fino a 15.000 tonnellate di stazza di accedere allo scalo di Margaret dal mare aperto un investimento di 11 milioni di euro che in un anno ha consentito di portare a casa i lavori tra le polemiche 50.000 alberi sono stati tagliati per far spazio alle banchine ma soprattutto l'intera area è al centro di un'inchiesta che già vede 23 persone indagate praticamente l'intero consorzio a USA Corno per aver usato, questa l'accusa, fondi della regione quasi 11 milioni di euro in totale per altre finalità e aver dato in affitto a prezzi irrisori le strutture del porto alle imprese socie dell'ente vaste aree sono ora in liquidazione e si spera nell'interesse di gruppi industriali il consorzio intero è in liquidazione sommerso da oltre 14 milioni di debiti nel frattempo però la fine di questi lavori porta un po' di fiducia qua vediamo una grandissima opera fatta con un'attenzione ambientale incredibile già ripopolata della vifauna che predilige queste aree per il suo stazionamento e non c'è alcun impatto nel senso che il riverdimento degli argini ricostituiti è già attuale con la natura che fa il suo corso ma al di là di queste immagini abbiamo concluso praticamente manca poco più di un mese per i lavori di completamento di dettaglio questa grande opera che intendeva da molto tempo riportiamo a 7,50 metri la navigabilità di questo canale d'accesso a uno dei porti della regione ridandogli competitività e ridandolo ad un sistema di imprese che potrà usarlo per rifare impresa in questo ambito della nostra regione che scontava un po' una carenza infrastrutturale lavori che riguardano oltre al canale anche il potenziamento ferroviario e dei collegamenti di quest'area industriale che ora vuole ricominciare a pensare al futuro il piano di rilancio ha visto infatti coinvolti vari attori come il CNR e i consorzi di bonifica ma non dimentichiamo le imprese che a fronte di una sospensione di 4 anni del cantiere hanno saputo riprendere in mano il progetto insieme a noi ripensarlo e soprattutto ritrovare un'ottica del fare e quindi di dare una risposta operativa al territorio